Buon appetito Renato. Grazie. Ah che bello. Ma lo faccio sempre quando mangia? Quando faccio tutto. Quando mangia lo fotografo. Non lo vedi com'è diventato? Adesso sai cosa facciamo? Tagliamo l'erba. Taglia un pezzettino. No. Mettela in bocca. Così si scalda un po'. Mettela in bocca. Adesso tagliamo l'erba. Io e la Nesi. Poi tu gli fai la fotografia mentre taglia l'erba. La mia cognatina. Mi fa compagnia. Anche qua Marguerite c'è la gerania. Anche qui. Questo è un appartamento Marguerite. Lo so lo metto lui dentro. Mi fai cacciare di dentro il letto e lo metto lì a dormire. Sì ah. Mi fa male la testa. Non lo so che testa vedi. Come mai? Come mai? Come mai? Il vino rosso. La vodka. Sì a me no? Eh? A me no. A me sì. Sì però ogni persona è differente Renato. Corpo è differente. Anch'io no. Non reagisco bene con... Differente alcolici. Sì. Nesi? Sì. Guarda la lumaca sul muro. No qua qua. Dove c'è la casa? Ah sì. Lumaca. Che la zona? È bella eh? Mangia l'anguria. Mangia un pezzettino. Dalla un pezzettino a lui. Non mettere il bocco. Anche lui mangia Renato. Lui vuole l'anguria. Sì. Ciao. Ciao. Ciao bootbull. Ciao. Ciao.